Una delegazione formata La delegazione formata dal presidente Favero, dal vice Gervasoni, dai consiglieri nazionali Trovant e Duiella e dal direttore dell'Alpino Cortesi sta facendo visita in questi giorni alle sezioni estere del Brasile e dell'Argentina. Per noi è un grande orgoglio, commentano le penne nere oltreoceano. Il gruppo alpini di Credaro Sezione Bergamo compie 90 anni da 43 guidato da Battista Bellini, rieletto capogruppo per la quindicesima volta lo scorso febbraio. Salgono da 12 a 13 i campi scuola dell'ANA per ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni. Il primo inizierà il 15 giugno, gli ultimi si concluderanno il 31 agosto. Ai 12 già presentati si aggiunge quello di lingua glossa in Sicilia. Regione Lombardia in collaborazione con ANA ha indetto due concorsi rivolti agli studenti lombardi. Al centro la storia e le attività del Corpo degli Alpini e dell'Associazione. Per gli studenti universitari un premio in denaro, per i più piccoli un viaggio di istruzione. L'Associazione Nazionale Alpini conta in Italia ben 80 sezioni. All'estero ve ne sono altre 30 più 5 gruppi autonomi tra Canada e Russia. Ogni anno la donata nazionale diventa l'occasione per i delegati esteri di tornare nel nostro paese. Ma ci sono occasioni in cui i vertici dell'Associazione si recano oltre confine per conoscere da vicino l'attività che i soci più lontani svolgono sul proprio territorio di competenza. Proprio in questi giorni una delegazione formata dal presidente Sebastiano Favero, dal vice Gian Mario Gervasoni, dai consiglieri nazionali Alessandro Trovant e Aldo Duiella e dal direttore dell'Alpino Massimo Cortesi si è recata in Brasile. Da tanto tempo che aspettiamo questo magnifico momento, la committiva degli Alpini della nostra terra natale Italia. Per noi abbiamo un onore qua del cuore. Mi vengo a un gruppo intercorso quando parlo, sai? Qui ci vuole molto coraggio per partire e andare, ma l'entusiasmo qua è incredibile. Tutta la gente vive per il suo cappello alpino e per lo spirito alpino. In totale siamo più di 100 iscritti adesso, ma contiamo ad arrivare nei prossimi due o tre anni ai 300-400 iscritti. Perché questi iscritti sono quasi tutti un gruppo di Santa Catarina. Abbiamo intenzione anche di fare un gruppo a Belo Horizonte, che è un altro stato, a 3.000 km da qui, e a Vittorio e lo Spirito Santo, e anche a San Paolo. L'incontro con soci, aggregati e amici degli Alpini della sezione Brasile è stato all'insegna delle musiche e dei canti del periodo dell'immigrazione italiana. America, 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 cosa sarà questa America quando passa la montagna? Un momento di allegria, di ricordi, ma anche di nuove prospettive con uno sguardo rivolto al futuro. In questo momento qui stiamo facendo beneficenza, aiutando le famiglie più povere e consegniamo quelle che qui chiamano le ceste basiche, che sono ceste con alimentazione per un mese intero in una famiglia e le distribuiamo. Ma il nostro progetto è fare cosa più concreta, comprare dei macchinari ospedalieri da donare direttamente agli ospedali e un'autobulanza per i pompieri di Urussanga, un'autobulanza per il pronto soccorso. L'esperienza con la sezione Brasile è stata veramente un'esperienza estremamente positiva, grande entusiasmo, grande disponibilità, grande voglia di essere con noi, di essere alpini, di seguire quelli che sono i nostri valori. E qui abbiamo trovato gente che questi valori veramente con la tradizione dei loro veci se ne sono portate veramente indietro. Battista, auguri! Battista Bellini è il capogruppo degli alpini di Credaro e lo è dal 23 aprile del 1981, 15 mandati alle spalle, l'ultima rielezione il 9 febbraio di quest'anno. E diciamo, il piume suonato nelle prime volte, però dopo si fa l'abitudine, dai diciamo la cosa. E dopo ancora anche adesso con la mia età di 82 anni mi sento ancora orgoglioso, questa è la salute che il Padre Eterno ci danno, perché tutti siamo amici e tutti uguali. Partito a fine maggio del 63 per il cara Cuneo, l'alpino Bellini è stato poi assegnato al battaglione Bolzano nella Tridentina. I ricordi dei campi estivi di Invernali tra l'Alpe di Siusi e le cime di Lavaredo, a San Candido e Dobbiaco sono ancora vivi nella sua mente. Pensate che l'isci di 2 metri e 20, il Galan era 7 kg, quasi 8 kg, dopo c'era il materassino pneumatico e tutte le cose. E la cosa più bella che mi ricordo ancora è che il mio era il più piccolo davanti al capitano, partendo per il campo invernale, mi ha pesato lo zaino. Io ero 58 kg e il zaino 37 kg e ancora oggi mi sento proprio piccolino, ovvero alpino. Dopo il congedo Bellini si è subito iscritto all'ANA che è diventata, anche per la moglie Maria Pace, le figlie Laura, Luana e Adriana, una seconda famiglia. Abbiamo avuto una doppia famiglia, una famiglia che sicuramente è stata molto importante per mio papà, quando nel 2002 mia mamma è improvvisamente mancata e quindi questi uomini con le loro famiglie gli si sono stretti intorno, la famiglia al pieno di Credaro, la famiglia del volontariato. La figlia Adriana oggi è sindaco del paese di Credaro. Molto di ciò che papà le ha insegnato le è servito, dice, per portare avanti il suo incarico. Ha influito sicuramente moltissimo. Noi siamo i sindaci della Seconda Repubblica, quelli che sono di fatto cresciuti senza le scuole di partito, quindi le nostre scuole sono state l'ambiente civico dove siamo cresciuti. A Credaro per festeggiare l'alpino Battista è arrivato anche il presidente sezionale Sonzoni. Lui, che il capogruppo l'ha fatto per ben 18 anni, sa bene quanto impegno e passione ci vogliano. Che siano al primo mandato o al quindicesimo come Battista, tutti sono fondamentali per portare avanti, dice, quelli che sono gli obiettivi ed i valori associativi. 45 anni da capogruppo penso che sia un traguardo, una storia straordinaria. Oltretutto lui ha trovato il tempo di essere capogruppo e di associare una notevole e generosa attività nel comparto della protezione civile a livello di comune, a livello di sezione e a livello nazionale. Evviva, evviva il reggimento, evviva, evviva il corpo degli altri. Non più di un mese fa nel Tg l'alpino avevamo comunicato che di lì a breve sarebbero state aperte le iscrizioni ai campi scuola 2024 per ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni, organizzati dall'Associazione Nazionale Alpini. Le richieste, affinché si potessero avere maggiore informazione in merito, sono subito arrivate ed oggi trovano risposta sul sito www.ana.it, dove è possibile scaricare l'apposito modulo e consultare l'elenco completo dei campi. Ai più attenti non sarà sfuggito il fatto che le località, rispetto a quanto detto a gennaio, sono cresciute di numero e da 12 sono diventate 13. Si è infatti aggiunta la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza anche in Sicilia, a lingua glossa, dal 20 luglio al 3 agosto. È un percorso mai avviato con la definizione naturalmente dei direttori di campi scuola, le località e quindi tutto ormai è pronto per l'avvio del nuovo campo scuola 2024, continuando sempre sull'onda del noi prima dell'io. Elemento importante, significativo e distinguitivo, appunto perché queste sono le opportunità che noi vogliamo offrire ai ragazzi, tenendo molto in evidenza i valori alpini, con particolare riguardo all'educazione civica, alla Costituzione, a tutte le iniziative legate comunque alla protezione civile e a tutte le varie attività di volontariato dove i ragazzi devono appropriarsi di queste opportunità e di questi valori. I campi avranno una durata di 15 giorni ciascuno e di un costo di 200 euro a titolo di rimborso spese. Il primo inizierà il 15 giugno, gli ultimi si concluderanno il 31 agosto. Uno di questi, quello a tai di Cadore, avrà caratteristiche diverse rispetto agli altri 12. È evidente che per chi ha già frequentato più campi non vogliamo che svolgano un'attività ripetitiva per cui a tai di Cadore verrà svolto un campo scuola più partecipato, più impegnativo ma soprattutto potranno partecipare ragazzi dai 18 anni ma già con delle esperienze ben precise quindi sarà un po' una selezione perché ci saranno alcune attività legate anche alla Brigata Iulia. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sul sito www.ana.it alla voce Campi Scuola Ancora pochi giorni di tempo per poter partecipare ai due concorsi indetti dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con l'ANA sulla storia e le attività del Corpo degli Alpini e dell'Associazione Nazionale Alpini. Si tratta della seconda edizione di questa iniziativa riservata attraverso due diverse opportunità a studenti universitari una e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado l'altra. Il tema scelto è Alpini, custodi della memoria e orizzonte per la gioventù. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia, autori dei migliori elaborati parteciperanno ad un viaggio di istruzione in luoghi significativi della storia degli Alpini mentre i vincitori del concorso riservato a studenti universitari, giovani neolaureati o ricercatori di età inferiori ai 30 anni residenti in Lombardia o frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, è previsto un premio in denaro di 2.500 euro. L'iniziativa si inserisce nel progetto più ampio che mira a realizzare un programma di iniziative civili, sociali e ambientali tra Regione Lombardia e l'Associazione Nazionale Alpini in attuazione di una legge, la 19-2020 per la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. Tutte le informazioni sui due concorsi si possono trovare sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it o telefonando ai numeri 02-674-82817 e 02-674-82777 La scadenza per partecipare ai concorsi è l'8 marzo La scadenza per partecipare ai concorsi si possono trovare sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it La scadenza per partecipare ai concorsi è l'8 marzo